eccoci qui ragazzi benvenuti in questa nuova intervista ad un consulente finanziario indipendente serie di interviste che stiamo facendo per spiegarvi un po il dietro le quinte della professione del consulente finanziario indipendente per chi per tutti coloro che attualmente magari sono insoddisfatti del proprio lavoro economicamente finanziariamente a livello di soddisfazione personale gratificazioni personali sono appassionati di finanza e vorrebbero fare il consulente finanziario indipendente ma hanno ancora qualche dubbi sulla professione vorrebbero saperne di più e allora piuttosto che raccontarvelo io o danilo come facciamo sempre vogliamo dar voce a chi lo fa proprio tutti i giorni sul campo di mestiere oggi è il turno di giacomo sensi ciao giacomo benvenuto ciao ciao vale ciao a tutti grazie mille allora giacomo consulente della invest scf poi intervisteremo anche abbiamo il programma anche di intervistare altri consulenti che non lavorano con la rima scf ma magari hanno studiato con noi lavorano per altre società hanno altre società e quindi oggi siamo con giacomo giacomo intanto presentati un attimo che chi sei cosa fai da cosa facevi prima di fare il consulente finanziario da quanto fa il consulente finanziario allora io vengo da la prima periferia di padova quindi nel veneto e prima di fare il consulente mi sono laureato in scienze dell'educazione quindi tutt'altro mondo e ho lavorato per varie cooperative svariando i campi quindi da i minori non accompagnati passando per per le persone con disabilità adulta in inserimento lavorativo e insomma anche case famiglia domani ne ho girate un po e che cosa mi ha portato a fare il consulente finanziario c'è stato il lockdown e quindi grazie grazie o per colpa di quello insomma dipende dai punti di vista mi sono mi sono approcciato a questo ai video di della io investo prima come come cliente quindi con con dei corsi comprando qualche corso e poi mi è piaciuta come realtà e siccome avevo bisogno di cambiare un po anche per per questioni personali cambiare un po la la prospettiva ho detto cominciamo poi in realtà io il mio lavoro mentre studiavo non l'ho lasciato e quindi ho ho tolto diciamo un po di tempo alla al mio al mio lavoro però non così tanto e quindi all'interno dello dello studio anche per per diventare consulente perché comunque ho cominciato la masterclass io sono della masterclass 4 quindi una una delle prime masterclass si e comunque per per varie vicissitudini poi ho cominciato un po più tardi anche legate appunto al mio lavoro precedente ok ok hai dato già diversi diversi spunti adesso da andare andare ad approfondire intanto venivi da hai detto che venivi da tutt'altro quindi facevi facevi completamente altro come è stato l'avvicinamento alla professione quindi sia la parte di la parte di formazione quindi nello studio e qui vorrei soffrire un po anche le difficoltà che hai avuto venendo da altro nella nella vita le difficoltà che ha avuto nell'apprendere tutte le varie nozioni finanziarie previdenziali assicurative successori anche commerciali e di marketing piuttosto che poi invece l'effettiva esperienza da consulente quando ha iniziato raccontaci un po i due i due momenti chiave allora ti dico dal punto di vista del del percorso il master la masterclass è stata molto molto completa quindi non ho avuto difficoltà nell'imparare cose nuove nell'imparare anche tutta una serie di di lezioni o comunque di macro argomenti che per me erano non erano pane quotidiano perché appunto facevo tutt'altro e che poi appunto nella nella mia attività di consulente adesso mi stanno tornando molto utili quindi diciamo che è una continuazione quella che poi ti trovi a fare durante l'attività ecco l'attività vera e propria la difficoltà è stata appunto quella di riuscire a studiare nei ritagli di tempo perché comunque il lavoro era full time il lavoro era molte volte anche a turni e quindi sai comunque riuscire a ritragliare il tempo per per studiare non era facile quindi anche i sabati le domeniche andavano per lo studio quindi a livello di masterclass si è normale non ti regala giustamente niente nessuno quindi se vuoi cambiare è un po di devi impegnare quindi credo che sia giusto così bene 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 e poi dall'altra parte invece quando è iniziato è iniziato la professione quindi parti dallo diciamo dallo studio poi a un certo punto si smette di studiare o meglio di studiare non si smette mai però è arrivato il momento di iniziare come è stato il tuo inizio è stato un po un po difficile nel senso che ti trovi appunto a ripartire da zero se vogliamo di nuovo nel senso che ti trovi con da clienti il fattura il tuo fatturato è a zero però pian pianino insomma raccontando anche questo nuovo percorso e questa nuova mia diciamo passione perché poi è diventata una passione oltre che un lavoro però era era nata come vera passione quindi è stato anche tra virgolette facile raccontarlo ecco perché se sei se sei spinto dalla passione che di quello che stai facendo è anche più facile raccontarlo i primi clienti infatti sono iniziati chiaramente dalla cerchia più 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 ristretta però però per poi per poi ampliarsi sicuramente la società dà una mano in questo nel senso che comunque come palestra sia prima dell'abilitazione che anche dopo ci sono degli aiuti prima dell'abilitazione con l'affiancamento ad altri ad altri consulenti e dopo con tutta una serie di di aiuti dal punto di vista burocratico dal punto di vista dei software dal punto di vista assicurativo che ti danno anche quella serenità di poter dire ok io posso fare il lavoro tranquillamente il mio lavoro in maniera serena quando hai finito di studiare eri indeciso oppure cioè se fare la se andare da solo o venire a lavorare con la UMS SCF oppure già sapevi che avresti fatto quello era già chiara l'idea? sicuramente non non ero sicuro alla fine del master ci ho pensato un po' però poi non ho non ho avuto grossi dubbi nel senso che vedendo anche i costi e comunque il tempo che mi ci sarebbe voluto per andare da solo non solo sarei partito da zero ma magari mi ci sarebbero voluti mesi per mettermi alla pari con tutte le situazioni burocratiche piuttosto che di software o di anche anche i soldi perché non parti da zero partita meno 10 7 meno esatto esattamente quindi quindi diciamo che è stata anche una scelta una scelta che ho fatto in maniera veramente molto molto serena quella di intraprendere poi il percorso con la game ok raccontiamo adesso invece a mi metto nei panni di chi ci segue a casa che dice ma sono consulente ma che fa durante durante il giorno come organizzata la tua giornata quindi raccontaci un po' come ti organizzi se lavori da casa devi andare a casa dei clienti a trovarli come ti gli dai appuntamento piuttosto se hai l'ufficio dici un po' come è organizzata la tua giornata allora attualmente io lavoro lavoro ancora da casa però questo non mi impedisce di imparare tutto quello che devo fare quindi tutti i lavori che devo fare li posso fare tranquillamente da casa perché abbiamo l'appoggio della società con i vari uffici ufficio amministrativo ufficio studi che ci dà una mano per anche per gli strumenti che noi andiamo a consigliare e quindi questa professione si può anche cominciare a fare dalla propria casa ecco chiaramente deve essere comunque devi avere un posto dove poter lavorare in tranquillità e dove poter lavorare insomma comunque sei in rapporto diretto con i clienti quindi comunque devi avere la tranquillità di poter parlare con loro soprattutto in un ambito come il nostro che è quello dei soldi dove in Italia è ancora abbastanza tabù quindi parlarne è un po' diciamo complesso sì che poi non è solo questione di soldi ma ti raccontano proprio tutta la loro vita, la famiglia, le situazioni, i problemi che hanno quindi non è soltanto un aspetto puramente economico finanziario ma ti mettono in mano tutta la loro vita di fatto sì ed è anche il bello, è anche una delle parti belle del nostro lavoro nel senso che il rapporto con il cliente è forse al primo posto ecco, viene ancora prima rispetto alla parte tecnica che assolutamente ci deve essere e che come dicevi tu bene prima non si finisce mai di imparare quindi ci si forma sempre però è importante il rapporto col cliente secondo me è la prima il tuo biglietto da visita il rapporto col cliente e vai, si si finisce no no, quindi questo e un po' il covid ha sdoganato il mondo dell'online perché prima del covid noi siamo nati prima del covid in generale quindi già per noi era normale fare call in video, lavorare da casa eccetera eccetera o dall'ufficio e poi dopo il covid anche le persone si sono abituate a fare le video call eccetera eccetera adesso com'è? ti chiedono mai ma vediamoci piuttosto che ma dov'è il tuo ufficio oppure ormai quando si tratta di fare online non fanno praticamente storie? succede che qualcuno ti voglia vedere anche di persona sicuramente però non è un ostacolo quello dell'online nel senso che comunque se c'è un impedimento o da parte mia o da parte del cliente il fatto di potersi vedere comunque online è un valore aggiunto poi che quel cliente ti voglia vedere anche fisicamente ma anche per non parlare strettamente del suo portafoglio ma anche semplicemente per andare a prendersi un caffè per andare a conoscerti meglio è anche in questo che dico il rapporto è molto importante perché lo fai maturare nel tempo quindi è un qualcosa che qualche cliente lo chiede però non è assolutamente un impedimento né da una parte né dall'altra clienti come se li hai distribuiti? nella tua zona o in tutta Italia? allora qualcuno sicuramente dalla mia zona come ti dicevo prima partendo appunto dalla mia cerchia qualcuno appunto dalla mia zona però sì sì anche il resto di tag appunto è il punto forte dell'online in questo momento nel senso che puoi avere il tuo consulente indipendente io vengo da Padova ho anche un paio di clienti dalla Fuglia un cliente sardo quindi dipende dipende anche lì la distanza per loro non è un problema? no 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 assolutamente no chiaro al primo incontro magari ti dicono sì ma tu da dove vieni se ci possiamo vedere insomma sono un po' titubanti ma giustamente come lo saremmo tutti certo però appunto sul rapporto che vai ad instaurare diventa una barriera invisibile una barriera che non c'è più si pian pianino diventa sempre più bassa finché sparisce quindi è veramente un qualcosa che forse all'inizio alla prima call al primo incontro ecco può essere un qualcosa che mette una piccola barriera però poi insomma è la professionalità che viene fuori ecco non è tanto il dove sei certo e come difficoltà invece qual è la cosa più difficile che hai trovato quando hai iniziato a fare la professione anche magari anche adesso che hai superato ecco l'ostacolo più grande dai ma sicuramente è quello comunque di stare sempre sul pezzo non è facile stare sempre sul pezzo e stare diciamo dare sempre continuità a quello che magari in alcuni momenti può essere una difficoltà personale o anche una difficoltà generale insomma stiamo vivendo comunque anche un periodo in cui ci sono state determinate cose che hanno influenzato i mercati per forza di cose e quindi è stato anche un periodo da quel punto di vista non facilissimo perché approcciarsi al mondo degli investimenti quando si hanno delle altre difficoltà dal punto di vista proprio economico reale diventa più complesso quindi questa è stata un po' la complessità più grande che ho trovato in questo primo anno che nella quale sono all'interno della I-Invest riuscire a fargli capire guarda sì magari non potrai risparmiare o comunque investire quello che ti eri prefissato questo non vuol dire che tu non possa investire certo certo e invece lato clienti o potenziali clienti qual è il problema più grande che vedi che riscontri più spesso? ma sicuramente il fatto che il fattore della parcella della parcella che noi consulenti finanziari indipendenti presentiamo presentiamo in maniera trasparente ecco forse questa trasparenza anche 360 gradi dove ti ringraziano pure per questa trasparenza dall'altra parte però ti dicono sì però fammi capire meglio perché in banca io non pago cosa che in realtà non è assolutamente vera consulente che non paghi non sai quanto ti costa esattamente esattamente quindi ecco è questa cosa forse l'ostacolo più grande il fatto di far capire anche il valore che tu puoi dare a queste persone che non è solamente la parcella che tu paghi ma è anche tutto poi il percorso che fa insieme la gestione il monitoraggio del portafoglio sempre e comunque per qualsiasi cosa sei disponibile quindi è quel valore aggiunto che si fa fatica a volte a far capire certo chiaro chiaro e tornessi indietro riguarda l'ultimo l'ultimo anno da quando è iniziato sei soddisfatto dei risultati raggiunti di dove sei oggi e se tornassi indietro lo rifaresti tutto questo percorso? assolutamente sì lo rifarei sono soddisfatto di dove sono sicuramente punto a fare di più perché non mi accontento e comunque è solo il primo anno però per essere il primo anno sono abbastanza soddisfatto del lavoro che ho fatto quanti clienti gestisci ad oggi? ad oggi gestisco una trentina di clienti ok e quindi sì comunque al di là del fatto che che comunque 30 clienti dal mio punto di vista per un anno in un anno non sono male sei matto allora guarda ti racconto questo perché se voi dietro le quinte tante volte non lo conosce la gente crede che i clienti piovono dal cielo e se eravamo in un evento per consulenti finanziari indipendenti qualche un paio di anni fa e avevano chiamato sul palco organizzato avevo chiamato sul palco è un ricordo un paio di persone che dovevano presentare la loro strategia per acquisire clienti per consulenti che avevano applicato per grande successo che stavo in lago io stavo con Darino stavo con il quadernino questi spa questi si spaccheranno di brutto tutti belli infiocchettati insomma parla non racconto perché allora devi fare così quest'anno abbiamo fatto questo abbiamo fatto quest'altro abbiamo fatto quest'altro a un certo punto così qualcuno gli ha sì ma alla fine il risultato incredibile è stato che abbiamo fatto ben sette clienti in un anno sette e l'avevano chiamati a testimoniare come caso di successo che avevano fatto uno studio sette clienti in un anno strategia che c'erano gli altri che gli è Danino per poco noi gli esaltiamo addosso gli altri andevano a punti che va bene nel senso d'accordo m7 è meglio è meglio di zero però per dire 30 clienti qua è quasi mai giustificato che non so perché non so tanti 30 clienti in un anno partendo da zero sono tantissimi sono che tanti non è semplice la professione quindi non è semplice fare clienti non piovono dal cielo quindi un bel traguardo 30 clienti e un bel traguardo assolutamente sì sono sono soddisfatto del mio lavoro devo assolutamente dire che non mi aspettavo cominciando anche solo un anno passi me l'avessi chiesto insomma un obiettivo del genere non ci avrei neanche minimamente pensato ecco forse quei sette che tu hai detto potevano essere un obiettivo tangibile e invece poi sono arrivato a 30 quindi bene che poi alla fine io ormai l'ho parlato con tantissimi di voi vedo i dati vedo più che vedere poi a voi tutti i giorni vedo alla fine i risultati finali però un po' anche parlando con Danilo anche dall'esperienza sua quando faceva aveva iniziato a fare il consulente la parte più difficile è il primo anno e mezzo che per voi che già siete consulenti è meglio cioè questo è un vantaggio perché fa da barriera all'ingresso fanno oggi che ne so al mondo della formazione e dell'educazione tutti aprono fanno il corso fanno prima gli influencer poi te copiano te copiano il corso e poi lo rivedono quindi non ci stanno barriera all'ingresso compri la telecamera da 20 euro un computer registri prendi un sito da 10 euro e fai il corso quindi lì barriera all'ingresso bassissime e è un settore tanto competitivo di qua invece c'è molta meno quando uno entra c'è un vantaggio incredibile perché tra le devi fare l'esame prima di fare l'esame che non è semplice tutti influencer finanziari non hanno lauree non hanno niente però fare chiacchiere è facile l'esame non lo fanno perché intanto devi fare l'esame poi dopo che fai l'esame che sei iscrivendo all'album sei vigilato sei vigilato dall'ocf dalla consob devi rispettare tutto fare tutto quanto e anche quello perché tanti tanti influencer non fanno il consulente perché non vogliono giustamente dicono ma io già l'ho detto mio guadagno bene tutto quanto faccio questo e poi perché il primo anno chiaramente primo anno anno e mezzo è dura è dura fare i primi 30 40 50 60 clienti quindi devi avere la pazienza e la volontà di star lì battere un anno e mezzo e poi vedere due anni e poi scollinare un po' la parte più più critica e andare e andare e andare avanti e questo sono disposti in pochi a farlo quindi una volta che avete che uno ha iniziato si è posizionato ha fatto il primo ecco più o meno vedo un anno e mezzo due quello è quello il tempo poi inizia a creare di stacco rispetto a tutti a tutti gli altri a prenderti il tuo il tuo posto in un mercato che prossimi anni darà sempre più più soddisfazione quindi questo questo bene cioè sei arrivato già a un ottimo un ottimo punto chiaramente è l'inizio nel senso che poi devi andare ancora avanti obiettivi prossimi tre anni e prossimi cinque anni sicuramente dal punto di vista dei clienti è un un fare per due nel senso che siamo arrivati a 30 al primo anno il secondo anno farne 60 arrivare a 60 quindi insomma è sempre una scalata poi è chiaro che non è facile a un certo punto diventerà anche diciamo si saturerà a un certo punto la quantità di clienti che puoi gestire però diciamo che il punto finale è arrivare a 100 e più clienti dal punto di vista dei clienti si poi anche lì quando arrivi a quando arrivi a un tot e lavori sul patrimonio piuttosto che puoi farti aiutare da poi puoi crearsi il tuo piccolo team che ti dà che ti dà che ti dà una mano quindi puoi scascalarla un po' un po' hai diversi modi per scalarla per scalarla ancora bene 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 io credo che Giacomo mi hai detto mi hai detto tutto credo che hai dato diversi spunti interessanti alle persone ragazzi e ragazze più grandi più piccoli che ci hanno che ci hanno seguito sarai sicuramente di ispirazione per tanti ti ringrazio a nome di tutto di tutto lo staff per chi vuole approfondire di più la professione o vuole iniziare il nostro master per diventare consulante finanziario indipendente sotto in descrizione vi mettiamo il link per il master il link per prenotare una call direttamente con me piuttosto che tanti altri link utili quindi aprite la descrizione dateci uno sguardo e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video direci la vostra se avete qualche commento condividetelo perché tanti queste cose non le sanno non le sanno e noi ci vediamo alla prossima ciao Giacomo e un saluto a tutti ciao Ale grazie ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti